Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori Apriamo facendo il punto sulla situazione in casa Viola Dopo l'allenamento mattutino svolto agli ordini di Beppe Iachini Risultato ancora confermato alla guida della Fiorentina Dopo il colloquio avuto con Pradè e commisso nella giornata di ieri Arrivano buone notizie in casa Fiorentina con Germán Pezzella Capitano argentino dei Viola Che ieri ha fatto lavoro differenziato Ma che già in questa settimana ha ripreso le sedute con i compagni Domenica pomeriggio alle 18 ci sarà dunque nella partita contro l'Udinese Diverso il discorso invece per Borca Valero Ancora alle prese con il recupero dall'infortunio patito contro l'Inter La Fiorentina si allenerà di nuovo nel pomeriggio Dopodiché la squadra andrà in ritiro nella cosiddetta bolla A causa della positività di un membro dello staff Risultata proprio questa mattina Che ha fatto saltare anche la conferenza stampa del pomeriggio Di presentazione di Martinez Quarta Nuovo acquisto arrivato nel mercato estivo Da River Plate Per Fiorentina1.com Lorenzo della Giovampaola Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola